Non combatto per me stesso. Combatto per la squadra. Ecco perché vinciamo. Bene, andiamo. Esplosivi lanciati. Buonanotte. Mostriamogli come si combatte. Scudo in arrivo. Sistemi centrali ripristinati. Non mi scappi! Arriva l'onda. Modalità omicida attivata. Avete ripreso tutto? Terremoto! Ehi, 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 ehi! Fuori dai piedi. Addio! Bug eliminato. Mal di testa? Accidenti! È soltanto con l'impegno che puoi trasformare i sogni in realtà. Non vinceremo sempre, ma quando ti si presenta l'occasione, coglila. ma quando ti siveste mai o non ma quando ti si promisedi, che si interessi tu quale ть Boy Grazie a tutti.